Stai ascoltando un podcast? Rizzoli Education! Ascoltare la matematica in classe. A cura di Valeria Razzini. Le divisioni in colonna. Uno degli argomenti più difficili della matematica alla scuola primaria. Ditemi un po', voi come vi trovate con la divisione in colonna? A volte fate un pochino fatica, vero? Ecco, sono qui per rassicurarvi. Da maestra vi assicuro che è normale. Prima di parlarvi della divisione in colonna, però, vi voglio ricordare un particolare importante della divisione in generale, ovvero che è l'operazione inversa della moltiplicazione. In sostanza, se guardo una divisione e la osservo al contrario, parto dal risultato e torno indietro al dividendo, posso leggerla come una moltiplicazione. Ora chiudete gli occhi che ve lo mostro. Immaginate la divisione 8 diviso 2 uguale 4. Ora, osservatela al contrario e al posto dell'uguale mettete un per. Leggerete 4 per 2 uguale 8. Ecco, ci tenevo a fare questa importante premessa. Però, sono qui anche per darvi un trucchetto strepitoso. Lo sapevate che la divisione in colonna ha 4 parole magiche? Ve le dico subito. Divido, moltiplico, sottraggo, abbasso. Ora vi spiego passo passo come sfruttare queste parole magiche nella pratica. Diventerete campioni di divisione in colonna. Mettiamo il caso che la vostra classe abbia ricevuto in dono 72 libri della biblioteca e che la maestra debba sistemarli in parti uguali sulle 4 mensole dell'aula. Ovvio che volendo, con la proprietà distributiva della divisione, potreste fare 32 più 40 diviso 4 e quindi poi 32 diviso 4 più 40 diviso 4, 8 più 10. E lo avreste calcolato a mente. Ma ora, con queste 4 paroline magiche, potreste calcolarlo attrettanto velocemente anche in colonna. Certo, il calcolo a mente è fondamentale, ma essere capaci anche nel calcolo in colonna è importante. Vi guido io. Preparate però prima un foglio di carta e una penna. Li avete presi? Perfetto. Ora scrivete il numero 72, che è il dividendo, e a destra del 72, lasciando qualche quadretto vuoto, un bel 4, che è il divisore. Ah, lo sapevate che il divisore si chiama così perché è proprio colui che ha detto alla divisione? E che il dividendo si chiama così perché lo stiamo dividendo? Interessante, vero? E vi dirò di più. Il quotiente, risultato della divisione, si chiama così perché deriva dal latino quotiens, ovvero quante volte. Che meraviglia! Ma torniamo alla nostra divisione. Avete scritto 72 e 4. Ora tracciate una linea verticale che separi questi due numeri. La penna sarà la vostra bacchetta magica, quindi datele una bella spolverata. Fatto? Bravissimi! Al mio via, dovete esclamare la prima parola magica. Divido. Pronti? Via! Insieme a me! Divido! Di nuovo bravissimi! Disegniamo un archetto sul 7. La prima quantità, già divisibile per 4, che appartiene al dividendo. E poi, dividiamo. 7 diviso 4 fa 1. Mi raccomando, scrivete 1 sotto al 4. Quello è il posto del quotiente. Ora è giunto il momento della seconda parola magica. Moltiplico. Al mio via, con la vostra bacchetta magica, che dovete spolverare, la dovrete esclamare. Pronti? Insieme a me? Via! Moltiplico! Fantastici! Sì, perché per trovare il resto, passo passo nella divisione, faremo ogni tanto delle moltiplicazioni. 1, il coziente che ho appena trovato, per 4, il divisore, fa 4. Scrivete questo 4 subito subito sotto al 7. Provate a indovinare. Siamo già alla terza parolina magica. Sottraggo. Pronti? Partenza? Insieme a me? La diciamo? Via! Sottraggo! Fenomenali! Eccoci, grazie a una sottrazione, fatta dopo la moltiplicazione, a determinare il resto. Tracciate una riga sotto al 4 e sottraete a mente. 7 meno 4 uguale 3. Scrivete ora il 3 sotto alla riga che avete appena tracciato. Ehi, ma chi di voi ha detto che manca ancora una parola magica? Avete proprio ragione! L'ultima parola magica è abbasso. Sì, perché dopo che abbiamo diviso 7 per 4, ottenendo 1, poi abbiamo moltiplicato e sottratto e scoperto che 7 diviso 4 fa 1 con il resto di 3, dobbiamo proseguire la nostra divisione abbassando di fianco al 3 la cifra successiva, il 2. Pronti a dire l'ultima parola? Insieme a me come prima? Via! Abbasso! Bravissimi! Avete visto? Quelle parole divido, moltiplico, sottrago e abbasso abbiamo eseguito velocemente una divisione in colonna. Adesso non resta che imparare queste 4 parole nel corretto ordine. Bisogna sicuramente ripeterle tante volte e per farlo ho pensato a un gioco ultra divertente. Siete pronti? Allora, ripetete dopo di me le 4 parole con la vocina da gnomo, esattamente come faccio io. Divido, moltiplico, sottrago e abbasso. Tocca a voi. Bravi! Ora ripetete dopo di me le 4 parole con la vocina da gnomo, esattamente come faccio io. Divido, moltiplico, sottrago e abbasso. Bravissimi! Infine ripetete dopo di me le 4 parole con la voce da strega malefica, esattamente come faccio io. Divido, moltiplico, sottrago e abbasso. Fenomenali! Perfetto, direi che questo gioco può terminare. Oppure no? Che ne dite di andare avanti senza di me con altre voci buffe? Che divertimento! Seguici su rizzolieducation.it per ascoltare le prossime puntate di Ascoltare la matematica in classe A cura di Valeria Razzini Hai ascoltato un podcast? Rizzoli Education Che verifica e? Rizzoletto! Rizzoletto concetto! Perfetto! Rear